Erano specializzati in furti di auto da collezione. Agivano spesso su commissione. Nel loro ricchissimo bottino da controvalore di 4 milioni di euro, 131 auto e 111 tramotori e altre componenti, figurava anche una Lancia Delta Martini Integrale, appartenuta in passato al campione di rally, Miki Biasion. Un'organizzazione di 12 persone, 10 finite in carcere e 2 domiciliari, sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Cremona. Uno degli arrestati è residente a Mortara. Diversi colpi erano stati effettuati in provincia di Pavia, fra le zone d'azione della banda, insieme alla stessa Cremona, Piacenza, Parma, Lodi, Brescia, Bergamo, Milano, Monza, Brianza e Torino. Le accuse sono di riciclaggio, ricettazione e appropriazione in debita. Le vetture rubate venivano vendute a collezionisti o smembrate per ottenere pezzi di ricambio, che finivano oltre che in Italia anche in Slovenia, Croazia e addirittura in Ghana. Fra i protagonisti dell'indagine è anche il maggiore Rocco Papaleo, a lungo comandante della compagnia di Vigevano. Gli inquirenti, accanto al filone principale, hanno inoltre scoperto che alcuni degli arrestati gestivano un giro di macellazione clandestina di carne di cavallo, finalizzato a rifornire alcuni ristoranti della bassa padana.